Benvenuti in un'altra grande puntata del TalkScienceMotore.com Oggi in compagnia di un grandissimo ospite, Gil Ferraresi. Ciao Gil, benvenuto. Gil è un dottore di scienze motorie, fondatore del sito My Personal Trainer, un progetto che ha educato migliaia e milioni di persone da ormai più di dieci anni. In questo spazio, Gil, parliamo di quelle che sono state le strategie che ti hanno portato a fare quello che fai oggi con grande successo, che ti hanno indirizzato verso quello che fai oggi. Il mio percorso è iniziato cercando di fare ciò che nella vita amavo fare, quindi qualcosa inerente allo sport. Per cui dopo gli studi delle superiori ho scelto di fare quello che poteva essere un cammino adatto alle mie potenzialità. E ho scelto quindi di iscrivermi a Scienze Motorie, Università di Scienze Motorie di Ferrara. Diciamo senza particolari ambizioni, è un'età in cui ancora non hai, sì, magari hai chiaro l'ambito lavorativo che seguirai durante la tua vita, però ancora quando ti iscrivi all'università il lavoro sembra qualcosa di ancora un po' lontano. e il tuo lavoro in quel momento lì è quello di studiare, di fare gli esami, di prepararti. E così è stato, mi sono iscritto, ho iniziato a fare le mie esperienze di studio, sostenere i primi esami e diciamo è andato tutto liscio, Ferrara ho trovato, ho goduto di un'ottima preparazione, professori molto preparati e quindi è stata un'ottima esperienza, gli studi andavano bene, anche i risultati degli esami tutto tranquillo. I primi dubbi sono iniziati a sorgere intorno alla seconda metà del secondo anno di studi, inizio del terzo anno, in cui la figura del laureato in scienze motorie, dal punto di vista professionale, iniziava a emergere con le sue criticità, ok? Sostanzialmente la criticità di non avere accesso ad una professione non tanto ben definita, quanto piuttosto non esclusiva, nel senso che sappiamo benissimo che per fare questo lavoro in Italia non è necessaria la laurea, non è dispensabile. E poi ci si scontrava anche contro uno sovraffollamento di laureati in scienze motorie già in quegli anni. Avevamo Ferrara, avevamo Bologna e avevamo Verona, che ogni anno sfornavano centinaia di laureati. Insomma, tra questi problemi comunque si è continuato a studiare, la laurea è arrivata in tempi, diciamo, canonici. Terminata la laurea ho ripreso, era luglio, ho ripreso il mio percorso di lavoro estivo, quello che durante quegli anni mi ha sempre permesso di conservare una certa indipendenza economica durante il resto dell'anno. E terminati questi mesi estivi, verso settembre, ho iniziato a guardarmi attorno. E per la località dove vivevo, che è una realtà provinciale, il territorio non offriva molto. Quindi ho iniziato con un lavoretto, facevo circa sette ore a settimana, a 40 chilometri da casa, lavoravo in una palestra e nel tempo libero, così, assecondando quella che era una passione verso l'informatica e tutto quello che girava intorno, così senza ambizioni, ho aperto questo sito. Ma i personal trainer, il nome chiaramente derivava da quella che era la mia professione, quello a cui puntavo in quel periodo, che era appunto quello di diventare personal trainer. Personal trainer di un discreto livello. E ritrovandomi paradossalmente con tutto questo tempo libero, viste le scherzità di ore settimanali dedicate al lavoro in palestra, iniziai a pubblicare diversi articoli informativi, così scrivevo, mi informavo, pubblicavo. Sono nato anch'io, non dico in un garage, ma poco ci manca, quindi in una modesta cameretta. E dopo qualche mese dall'inizio di questa attività, mentre frequentavo vari corsi, cercavo di spostarmi a Bologna, Milano, vedere altre esperienze di professionisti affermati nel settore, scoprì per casualità che con internet ci si poteva fare due soldi, giusto due. Quindi inizialmente si trattava di integrare lo stipendio, di toglierti qualche sfizio settimanale, ecco, niente di più. Ho scoperto questa possibilità appunto di guadagnare con la pubblicità, ma allora praticamente era quasi monopolio di Google AdSense, che è un circuito pubblicitario, quindi senza particolare ambizione ho detto, ok, ho tempo libero, se mi ci dedico posso arrivare ad integrare lo stipendio, a una pizza di fine settimana, una cena di pesce più avanti. E da lì è iniziato un po' tutto, mi ricordo che scrivevo nei forum, com'è possibile che ho creato 500 articoli e non riesco a generare visite, non riesco a fare traffico? Utilizzavo dei programmi per creare siti web proprio basici, con un codice che dal punto di vista tecnico era sporchissimo, insomma, sono partito da zero e un po' alla volta ho intrapreso questo percorso. È passato circa un anno e iniziavo a crederci. Iniziavo a crederci senza poi particolari ambizioni, ma avevo intuito che poteva essere una strada. E per avere ancora più tempo, ho detto, ho fatto un ragionamento che era di questo tipo, anziché lavorare sette ore a settimana, comunque con, diciamo, con questo lavoro già iniziano ad essere le prime modeste entrate, mi iscrivo ad un secondo corso di laurea, così al pomeriggio avrò un sacco di tempo per poter sviluppare il mio progetto e in famiglia non faranno particolari storie. Perché pur avendo in casa due laureati in informatica, il progetto non era molto sostenuto, non ci credevano, ecco, detto tra noi. Quindi mi sono iscritto a questo nuovo corso di laurea e nel giro dei successivi due o tre anni ho continuato a realizzare articoli su tutto ciò che è inerente al mondo del fitness inizialmente e poi via via si è espanso anche la nutrizione, integratori, erboristeria, anche considerando il nuovo percorso di studi e poi ci siamo dedicati anche molto alla salute. Poi ho iniziato a strutturare tutto come azienda nel 2008 e da lì, diciamo, un po' alla volta ogni cosa è venuta da sé. Diciamo, traguardi inimmaginabili, sono arrivati lentamente, goccia dopo goccia, con un lavoro che è stato un lavoro molto di impegno, possiamo chiamarlo anche di sacrificio, anche se comunque magari lavori molto, però se è un tuo progetto, un tuo sogno da realizzare, non ti pesa lavorare così tanto. Quindi è stato, diciamo, un progetto fondato sul lavoro, sul tanto lavoro, un lavoro certosino, cercare sempre di migliorarsi, un po' alla volta poi strutturandomi come azienda ho iniziato ad assumere persone, prima una, poi due, poi tre, poi quattro, finché appunto è diventato il progetto che tutti noi conosciamo il giorno d'oggi con i suoi numeri. Esatto, che sono numeri veramente impressionanti, perché stiamo parlando di tanti milioni di visitatori mensili. Sì. È forse una piattaforma che ha superato anche i quotidiani più conosciuti in Italia. Sì, secondo Analytics, a marzo abbiamo superato i 21 milioni di sessioni, quindi di visitatori non unici, ma di visite effettive. Incredibile. Le pagine viste sono... Un progetto educativo e di divulgazione molto importante. Certo. Per tua esperienza, quali sono i visitatori che poi frequentano questo sito? Quali sono le loro richieste maggiori? Quali sono gli interessi di tutte queste persone? Ma dalle statistiche abbiamo un pubblico con una leggera prevalenza femminile. Va detto poi che in questi anni ci siamo spostati molto sull'ambito salute, quindi affrottando malattie, disturbi, quelli più comuni, sintomatologie particolari, sempre cercando di mantenere uno sfondo di chiave educativa, quindi di rimarcare sempre il ruolo che può avere preventivo o in alcuni casi addirittura curativo, che possono avere l'alimentazione, l'attività fisica corretta e quant'altro. Quindi diciamo oggi è diventato un portale molto visto per fare questi numeri, è un pubblico molto eterogeneo, ecco. Non abbiamo una classe definita, ci seguono un po' in tutte le età, poi chiaramente abbiamo una certa prevalenza. Questa è una cosa molto interessante, secondo me apre un discorso molto interessante, ovvero quello di appunto promuovere la salute e la prevenzione. Certo. Tu collabori con un network di professionisti che provengono sia dall'ambito della nutrizione, come ho detto, dell'informazione scientifica, dell'eboristeria e via dicendo. Tuttavia uno dei ruoli dei laureati in scienze motori è quello proprio di spingere verso l'educazione, alla prevenzione. Certo. Ed è per questo che allora è giusto anche, soprattutto parlare di nutrizione abbinata all'allenamento. Ciò non vuol dire che uno, quando apre un progetto di questo tipo, stia prescrivendo una nutrizione in particolare, ma stia informando l'utente sull'importanza di porre attenzione all'alimentazione. Io vedo per esempio in schemi molto complessi, a livello numerico di persone, come gli Stati Uniti, dove ci sono tantissime persone, e un altissimo tasso di obesità, un elemento fondamentale è quello di diffondere l'importanza, di curare l'alimentazione. Poi, indipendentemente che uno poi scelga un tipo di dieta più che un'altra, poi intanto comincia a interessarti, non buttare giù roba a caso, guidato soltanto dal gusto o dallo zucchero, che è la droga, che tutti i giorni tendenzialmente viene diffusa con l'alimentazione, e quindi anche il ruolo dell'alimentazione come divulgatore attraverso una piattaforma di questo tipo può essere fondamentale, può stimolare le persone, può cambiare un sistema. Certo, io lo dico sempre, quando si fa informazione abbiamo sulle spalle una grande responsabilità, soprattutto quando scriviamo qualcosa su internet che è la mercè di qualsiasi persona e rischia, se non è scritto come si deve, se non ha dei contenuti solidi, di fare dei danni. Addirittura in internet potrebbe fare dei danni un articolo anche corretto, perché la forma scritta, sebbene che si presta ad essere interpretata, quindi quando si scrive qualcosa dico sempre cercare di non dare mai nulla per scontato, molto spesso si dà per scontato che il lettore abbia un minimo di basi o che comunque ci capisca, quando in realtà spesso non è così, quindi è fondamentale spiegare i concetti in maniera semplice e spesso rimarcarli o spiegarli più volte. Sicuramente c'è moltissimo interesse, c'è un interesse enorme, si sente proprio palpabile verso l'alimentazione, verso l'attività fisica, la gente chiaramente è consapevole del ruolo che hanno queste componenti sul loro benessere. In questi anni si è creata però anche molta disinformazione, disinformazione disinteressata, ma molto spesso un'informazione interessata. Informazione interessata intendo che molti professionisti hanno un interesse economico diretto a promuovere certi stili alimentari o magari promuovere un determinato integratore ed associare alla dieta. E questo per carità, il business è parte della vita di ognuno di noi, però anche in questo settore è importante fare le cose in maniera etica. Fortunatamente nel mio lavoro monetizzando gli spazi pubblicitari con agenzie terze ho sempre potuto godere di imparzialità nell'informare, quindi non mi è mai successo che qualcuno mi imponesse di divulgare un determinato contenuto per promuovere una determinata cosa. E certo, ripeto, con i canali social, con i Facebook, il giorno d'oggi c'è molta disinformazione, le persone spesso assorbono, poi certe informazioni le rielaborano internamente e poi se ne escono con ma tu usi lo zucchero o non lo sai che lo zucchero è veleno? Sì, lo zucchero a certe dosi può essere sicuramente veleno, però certo non va demonizzato in maniera così così violenta come si è soliti fare, oppure spesso succede che le persone apprendono un po' di informazioni di qua e un po' di là e poi appunto a loro volta si propongono come esperte e quindi vanno a consigliare gli amici, i parenti e quindi si generano delle catene di disinformazione a cui il compito di un professionista che ha investito degli anni in formazione, laurea e post laurea è appunto quello di porsi in maniera obiettiva e di educare appunto le persone a benessere. anche perché prima o poi queste persone se non hanno seguendo queste mode, seguendo queste correnti senza averne le basi prima o poi finiranno comunque con rivolgersi a un professionista perché non è il loro lavoro e hanno bisogno di essere fiancati da qualcuno di competente. Sì, bisogna fare i conti sul fatto che su internet c'è e ci sarà disinformazione bisogna apprendere appunto quali sono le dinamiche, gli strumenti per potersi, poter emergere in questo contesto e entrare in connessione con le persone che hanno un'esigenza. Anche il modo in cui il professionista si pone in internet. Internet parla di sé quindi curare la propria immagine è importante porsi con certi tipi di contenuti perché un professionista che vuole fare un po' di clamore mediatico al giorno d'oggi potrebbe effettivamente sposare delle teorie alternative estremiste anche addirittura e quindi in poco tempo costruirsi un'immagine un'immagine forte. Ora se ammesso e non concesso che dal punto di vista di preparazione scientifica sia consono che quello che sta proponendo è qualcosa di sbagliato poi c'è il discorso etico e c'è il discorso che prima o poi la rete finisce con lo smascherarti quindi puoi avere un successo iniziale ma non ti devi approfittare dell'ignoranza di chi ti sta seguendo perché ovviamente se qualcuno che esercita una professione a noi molto lontana viene qua ed inizia ad illustrarci dei concetti errati inerrenti alla sua professione noi non abbiamo gli strumenti per difenderci e quindi siamo portati a credere a tutto quello che ci viene detto. Chiaramente se poi iniziamo ad informarci e ascoltiamo diversi professionisti quello che inizialmente sembrava un idolo perché ci ha detto delle cose di cui eravamo assolutamente a digiuno nel giro di poco tempo diventa ai nostri occhi un ciarlattano ecco quindi è molto importante a mio avviso per le loro attenicenze motorie porsi nei confronti dei clienti dei potenziali clienti in maniera distinta eticamente corretta e con dei contenuti di qualità insomma. Alla luce di questa esperienza io io perlomeno penso questo sarebbe urgente necessario che anche all'interno di un percorso universitario ci fossero basi di apprendimento su come utilizzare questi strumenti per la divulgazione concordo concordo dopo questa esperienza assolutamente saper governare queste nuove tecnologie oggi è essenziale prima ti ho parlato che il mio lavoro è stato un lavoro lo ho definito di sacrificio a pranzo ti ho parlato un lavoro da operaio non da imprenditore perché è stato costruito mattone dopo mattone non è stato costruito in tre mesi con un prefabbricato però oggi la rete ti permette di costruirti una cattedrale veramente in tempi molto ristretti sfruttando la potenzialità dei social il viral marketing e tutte queste cose qua e ovviamente da anzitutto è necessario saperli governare questi strumenti perché non è in un mercato non dico saturo però nel quale cominciano ad affiancarsi molti professionisti è sempre più difficile emergere quindi innanzitutto è importante avere gli strumenti conoscere come funziona come si pubblica un post come renderlo più visibile eccetera e poi bisognerebbe appunto fare un discorso anche dal punto di vista etico quindi quello che vado a scrivere sarà sarà fruibile in internet per mesi anni che ripercussioni avrà sul lettore si parla molto anche a livello politico di bufale di disinformazione insomma sarebbe importante assolutamente che ci fosse una formazione seria su questo elemento qui d'altronde stanno introducendo lo studio di social anche nelle scuole nell'obbligo dei ragazzi perché anche loro hanno le loro problematiche devono rendersi conto che se pubblicano una foto un contenuto in internet quel contenuto lì come sappiamo tutti nel giro di poche ore può essere su server a Hong Kong o chissà dove insomma è che c'è un periodo di veramente latenza in cui bisogna capire queste nuove dinamiche come si stanno muovendo certo e noi siamo nel pieno di questa trasformazione perché vuoi dire tu hai iniziato sei stato un pioniere nel 2005 questo va sottolineato e colgo l'occasione per farti le congratulazioni ancora di questo perché avere questo tipo di visione nel 2005 oggi è facile nel 2005 invece è un altro paio di mani la stessa cosa oggi nei social sì tutti ne vedono vedono il movimento vedono il caos che generano ma in pochi individuano come vengono utilizzati come devono essere utilizzati per essere efficaci e questo dovrebbe essere sì una materia di studio un'attenzione particolare da parte dei professionisti trovo che molte lamentele che provengono proprio dalle laureate di scienze motorie provengono da persone che non si aggiornano minimamente sull'utilizzo di questi strumenti che invece potrebbero assolutamente aprire dei canali di comunicazione diretta con i clienti quindi lì puoi trovare i tuoi clienti assolutamente i social hanno una duplice faccia una la perda di tempo e può anzi essere influenzato in maniera negativa proprio a livello personale l'altra lì si generano tanti contatti che possono essere estremamente profittevoli assolutamente assolutamente se oggi cerchiamo di se oggi ci apriamo un sito internet ma anche se lo apro personalmente con il bagaglio di esperienza che ho nel settore pensare di oggi di posizionarsi su internet al primo posto per personal trainer Arezzo non dico che sia impossibile ma è un percorso molto difficile e è molto complicato e anche molto dispendioso pensare di di arrivare a clienti con mezzi che invece potevano funzionare 5 o 10 anni fa mentre a livello social le condivisioni se si crea un contenuto veramente di qualità che poi ma che può essere un video o un post un articolo se è di qualità questo lavoro viene condiviso davvero molto velocemente e ci può permettere di arrivare a target molto velocemente del resto le conoscenze in ambito relazionale ma anche lavorativo sono una cosa importantissima i social in questo senso aiutano molto perché un tuo un tuo amico può essere a sua volta conoscente di una persona molto importante nel tuo settore lavorativo quindi se il tuo amico apprezza un tuo lavoro potrebbe finire sulla segnalato sulla bacchica o comunque essere visibile anche a questa persona quindi veramente i social permettono di di accorciare accorciare molto le distanze ovviamente ne va fatto un uso adeguato un uso consapevole certo e dunque questa è una parte di lavoro che ripeto spesso viene poco menzionata nell'ambito delle scienze motorie dietro come vediamo dalla tua testimonianza c'è invece un mondo veramente molto ampio che può partire sia analizzando i social analizzando i siti ma che si esprime poi nel fare business fare azienda e qui si parla di un concetto particolarmente tabuno in scienze motorie perché il laureato di scienze motorie è solitamente un libro professionista a volte totalmente nero a volte ha una partita IVA raramente si esprime poi con una società chi apre un centro ok è la cosa più canonica un'associazione sportiva di attantistica via via dicendo in questo caso invece ci troviamo di fronte alla creazione di un'azienda perché chi avviene il sito pensa al sito ma prima come hai menzionato ci sono dipendenti persone strutture server oggi sei anche tu nella condizione di registrare quotidianamente è una macchina molto onerosa certo quindi bisogna tener in considerazione degli elementi monitorarli misurarli molto attentamente perché altrimenti ci si fa del male però fare azienda ecco qual è stata la tua trasformazione nel momento in cui personalmente ti sei trovato di fronte appunto al cambiamento hai visto che dopo qualche anno che stavi sviluppando questo portale che c'era margine di crescita hai dovuto fare un salto ti sei dovuto evolvere ecco lì in quel momento cosa è successo dentro di te ma guarda evolversi in azienda è stata una conseguenza naturale e visto la giovane età quanti anni avevi all'epoca ventiquattro venticinque anni e vista la giovane età la voglia di fare ho sempre sposato una una filosofia che è quello di non accontentarsi dell'uovo oggi ma di puntare alla gallina domani quindi sostanzialmente un mese dopo aver aperto la partita IVA avevo già fatto un'acquisizione di un di un secondo sito internet che poi si è rivelato insomma dal punto di vista commerciale è una buona operazione ecco ed ho sempre cercato negli anni di assumere un dipendente in più un anno l'anno dopo se c'è la marginalità di assumere un altro e poi di cercare anche dei business alternativi non tanto più che strategia alternativa come piano B come via di uscita internet è un mondo molto affollato molto veloce che cambia velocemente quindi avere una via di uscita è sempre è sempre insomma positivo e consigliabile ecco se posso spendere due parole riguardo il laureato in scienze motorie che che cerca un business oggi oggi per fortuna e per sfortuna non esistono più business definiti nel senso che chi esce dall'università non ha più accesso ad una professione definita sì certo si può aprire la palestrina però può anche fare molto di più e internet in questo senso nel mondo attuale ti consente di non porti limiti davvero di assecondare quella che può essere una tua natura e la tua situazione attuale quindi in base a quelle che sono le tue risorse in questo momento la possibilità di investire che può essere anche zero e in base a quelle che sono le tue le tue competenze le tue passioni il tuo modo di essere ti si apre davanti un ventaglio di opportunità che che è veramente impressionante di esempi se ne possono se ne possono fare a bizzeffe chi era nella mia situazione anni fa ora come business in tempi sono un po' cambiati quindi difficilmente replicabile poteva aver seguito la mia strada chi magari ha una dote spiccata per la per la simpatia o una spiccata dote comunicativa sicuramente può aver fatto successo tramite youtube ad esempio chi è molto fotogenico a chi piace viaggiare il mondo può aver fatto successo con instagram o su facebook anche che insomma ha varie opportunità poi dipende molto anche dai contatti oggi sappiamo che per aprire un'azienda nel settore commercio ad esempio non è più necessario avere un magazzino fisico di proprietà ma ci si può affidare a delle rete logistiche esterne abbiamo i marketplace che possono essere i price amazon groupon siti che ti consentono di vendere i tuoi prodotti senza dover sostenere i costi per l'apertura di un e-commerce in generale qualsiasi cosa di cui abbiamo bisogno su internet cercando un attimo troviamo la risposta veramente ci sono delle cose molto interessanti che ci consentono di risolvere qualsiasi problema che si può si può presentare nella quotidianità vogliamo comprare un oggetto in Inghilterra quell'oggetto non viene spedito in Italia possiamo ad esempio appoggiarsi ad un intermediario quindi dall'Inghilterra consegnano un magazzino inglese e poi questo magazzino inglese in cambio di una somma diciamo bordabile ci spedisce oggetto in Italia questo è un esempio di un problema che è stato risolto personalmente tramite internet poco tempo fa infatti ti interrompo per fare una parentesi tu sei conosciuto appunto come padre di My Personal Trainer ma tu sei anche un grande esperto in ambito di commerce ecco di strategia di questo tipo perché se no sembra che parli di cose ma invece tu hai grosse esperienze anche in questo ho avuto esperienze sì nella vendita principalmente di integratori alimentari sportivi e prodotti parafarmaceutici quindi sì conosco bene quelle che sono le opportunità e anche le problematiche legate alla gestione di una realizzazione di una piattaforma di e-commerce posizionamento sui motori di ricerca fidelizzazione del cliente newsletter promozioni e poi tutti i problemi logistici prepara il pacco imballalo in maniera corretta affidalo al corriere giusto fai in modo che arrivi integro gestisci il reso tante cosine che ad esempio come ti dicevo prima ci sono i servizi di logistica a cui ti appoggi dal tuo e-commerce giri gli ordini direttamente a loro e da quel momento addirittura a costi inferiori a quelli che puoi sostenere tu ti si prendono in carica il pacco dall'imballaggio alla spedizione alla consegna è quello che può essere il customer care e questo è un altro aspetto che la realtà di scienza motoria tende spesso a sottovalutare ovvero quello del prodotto perché e questo lo vedo a livello internazionale soprattutto solitamente dicevo faccio un personal trainer quindi presento un servizio ma il servizio può essere abbinato al prodotto e oggi come tu stai giustamente raccontando non è necessario che tu debba avere il tuo magazzino puoi affidare tutta la tua merce ad Amazon che poi è un marketplace che poi dopo lo spedisce lo spedisce segue le indicazioni che tu dai questo è molto interessante un altro aspetto che è sconosciuto quasi la totalità dei professionisti e questi sono esempi io posso volentieri fare una quattro ore di formazione e dirvi tutto quello che so su queste cose ma tutto quello che so su queste cose l'ho imparato tra virgolette da solo nel corso degli anni con internet è importante non porsi limiti se si ha un'idea che anche magari può sembrare un po' strana o che magari esula anche da quello che è il proprio percorso di studi la si può valutare e la si può fare diventare qualcosa di concreto che l'importanza è non non porsi limiti so che che dirlo sembra facile e nella realtà è molto più difficile però molti laureati in scienze motorie compreso i sottoscritti inizialmente devono fare i conti con quella che è un po' la frustrazione di non trovare subito un lavoro o di trovare un lavoro mal retribuito o di non riuscire ad avere una clientela ad esempio dei clienti abbastanza sensibili per essere seguiti un personal trainer questo magari funziona nelle grandi città ma in periferia è difficile trovare delle persone che è disposte a farsi seguire un personal trainer non lasciarsi prendere dalla frustrazione e cercare sempre delle strade alternative ripeto in base a quello che sono le proprie esperienze ai familiari a quello che ci capita un po' nella vita fare tesoro di tutto e poi mettere insieme unire i puntini i famosi puntini di cui abbiamo parlato al fitness business summit assolutamente e oggi qual è il tuo impegno e dove pensi di andare? oggi sono in una fase di prepensionamento diciamo così diciamo che il lavoro come ho sottolineato più volte è stato molto impegnativo internet è un qualcosa che fatto a questi livelli tende un po' a logorarti ho avuto modo di confrontarmi anche con altri ragazzi di altre realtà molte ore davanti al computer quotidianamente tendono a insomma tendono a stancarti per cui un paio di anni fa ho deciso di vendere l'azienda proprietaria di My Personal Trainer che è stata acquisita da Banzai che è una grande società italiana che a quei tempi aveva due parti una parte media a cui facevano riferimento portali come Giallo Zafferano Pianeta Donna e Studenti.it ed altri e una parte e-commerce dove la faceva da protagonista Price e poi circa un anno fa questa azienda Banzai è stata acceduta da parte media quindi coi portali incluso My Personal Trainer Mondadori con il quale continuo a collaborare in questa fase in maniera ancora molto attiva prossimamente in una fase un po' di supervisione proprio un po' perché sono stanco un po' perché voglio aprirmi nuovi orizzonti professionali e anche mentali perché fare un lavoro che funziona è bello è gratificante però ti porta a procedere un po' con i parocchi hai un hai un hai un business che funziona ti concentri su quello lo porti avanti lo fai funzionare sempre di più e lasci perdere tutto quello che hai al tuo fianco che magari con il 3% di di impegno rispetto rispetto al precedente ti permette di raggiungere gli stessi risultati e poi comunque insomma credo sia giusto fare nuove esperienze una grande focalizzazione è stata però che mi pare una grande soddisfazione sì sì assolutamente questo è stata la soddisfazione è stata quello di di fare qualcosa che mi piaceva e di farlo anche in in maniera etica perché ci sono delle scorciatoie volendo il fatto di di riuscire ad arrivare facendo qualcosa di di comunque che si può definire corretto eticamente parlando è sicuramente una bella soddisfazione c'è quella quella lezione che uno ritrova sempre cioè il fare bene le cose a lungo termine paga certo paga e soprattutto su internet dove come giustamente dicevi oggi sembra che ci siano scorciatoie dove nel breve termine possono avere dei risultati forse sono risultati che offuscano la vista la visione a fronte di quelli che invece possono arrivare con l'impegno di lungo grado sono le famose scorciatoie contrapposte al fatto di perseverare la scorciatoia ti permette di arrivare presto però spesso delle insidie il fatto di perseverare su qualcosa di in cui credi magari con tempi più lunghi comunque ti permette di costruire qualcosa di solido ci sono stati momenti difficili che hai vissuto in questo periodo o eventualmente quali sono stati più difficili in realtà no non ci sono stati periodi difficili il periodo veramente difficile è stato quell'anno che è andato dalla laurea al fatto di aver creato non dico qualcosa che funzionasse ma di avere tra le mani qualcosa in cui credere perché quel periodo iniziale di disorientamento in cui in cui veramente vedi diverse strade non sai quale imboccare o comunque le imbocchi ma chiaramente non arrivi alla meta subito e quindi ti fai delle domande cosa farò non c'è lavoro il paese come va quindi quel periodo lì non è stato non è stato un periodo facilissimo diciamo successivamente il lavoro mi ha tenuto anche mentalmente parecchio impegnato quindi non avevo nemmeno tempo per periodo di frustrazione sicuramente nelle varie cose nei vari progetti che sono stati che ho intrapreso durante questi anni alternativi non tutti sono andati bene e anzi alcuni alcuni sono andati bene alcuni sono andati male nessuno è andato benissimissimo perché perché semplicemente perché apri qualcosa con dell'entusiasmo hai un bagaglio di insomma di relazioni di competenze personali che ti portano ad essere molto ottimista intraprendi una nuova cosa ma alla fine nessuno ti regala niente quindi parti e serve comunque sempre un po' di sacrificio aprire una cosa che vada bene del giorno dopo è è un po' difficile ci sono dei casi sicuramente pensiamo anche alle famose start up magari l'idea è buona ed è spendibile subito del giorno dopo però c'è il problema della ricerca dei capitali quindi insomma sicuramente valutare bene le idee che si hanno fare un bel business plan quindi analizzare tutti quelli che sono le opportunità le criticità i costi i piani B cosa succede se perché spesso si inizia con un nuovo progetto spinti dall'entusiasmo ah sì bella idea facciamo abbiamo la mente offuscata dal troppo entusiasmo e spesso tendiamo a non considerare problemi che puntualmente dopo poco si vanno a presentare concordo sul fatto poi di educare anche a questo chi si propone nel mio caso tante cose che ora ho imparato le ho imparate sulla mia pelle facendo degli errori non avendo minimamente idea di cosa volesse dire fare il business hai metto lato mentori persone che ti hanno guidato no nella mia realtà non ho trovato persone che mi guidano sicuramente consigli ma non tante cose le ho scoperte dopo magari da un punto di vista non so morale qualcuno che ti teneva magari indipendentemente che fossero tecnici che avevano già percorso quel tragitto ma persone che magari altri imprenditori altri informatici che ti potevano supportare qualche indicazione le hai avute da esterno? più che altri informatici guardavo in internet vedevo siti internet che facevano 10-20 volte le mie visite e dicevo quello se arriverò a fare quei volumi di visite riuscirò a guadagnare tot questo è incredibile questo è incredibile cioè l'autoapprendimento l'autoapprendimento su internet è un fenomeno che 20 anni fa non esisteva oggi invece come quell'atleta che è andato alle Olimpiadi con il lancio del giavellotto che ad autodidatta tramite youtube ha iniziato assolutamente è cresciuto la stessa cosa oggi può essere un invito anche a guardare con un punto di osservazione diverso le stesse piattaforme che utilizziamo esempio facebook le persone usano facebook senza pensare a quello che può essere il volume di business che c'è all'interno ma solo ad uso personale perché non l'hanno mai guardato nell'ottica business magari se ci riflettono possono trovare tanti spunti riflessioni per lavorarci anziché usarlo meramente a livello personale oltretutto magari dimenticando che facebook quando ti richiede la registrazione ti spiega che cos'è ovvero una piattaforma di test che fanno anche a livello sociale quindi sono riflessioni che dovrebbero essere fatte sapere prima di utilizzare conoscere approfondire sì diciamo che il business si cela si cela bene ma è un po' dietro dietro tutto quello che c'è nella vita e passare dalla realtà di studente a capire questo non è non è immediato anche su facebook ci sono i famosi influencer giusto per dare una una breve illustrazione di quella che può essere una opportunità di monetizzazione a giorno d'oggi le aziende si affidano appunto a questi influencer che non sono altro che dei professionisti o a volte nemmeno professionisti che hanno per una serie di motivi una serie di follower di seguaci su facebook che che seguono diciamo in maniera molto attenta quelli che sono i loro consigli i loro movimenti sono molto interessati a queste persone e le aziende appunto si affidano questi influencer per pubblicizzare i loro prodotti per cui se il laureato in scienze motorie a cui io riconosco una un'elevata professionalità perché vedo dai suoi video e vedo dai suoi contenuti che è un professionista a tutti gli effetti quindi mi fido ciecamente di quello che dice se lui domani mattina mi propone di acquistare un determinato attrezzo per fargli addominali a casa in un certo modo o un determinato prodotto o un determinato libro o un determinato piano alimentare io l'ho acquisto d'occhi chiusi perché mi fido di lui e non c'è niente di male in questo finché chiaramente il professionista ti sta proponendo qualcosa di serio di qualcosa che sia effettivamente utile poi se l'attrezzo costa 10 euro e te lo vendi a 50 insomma queste nel mondo del commercio sono cose diciamo normalissime se invece l'attrezzo costa un euro e ti fa fare gli esercizi sbagliati e te lo vendi a 100 ecco quello quello è prendere in giro le persone ritorniamo al famoso discorso dell'etica però ti dà la possibilità social facebook internet di avere un guadagno in maniera eticamente corretta anche youtube youtube è una piattaforma importante voi avete sviluppato intanto come personal trainer che mi pare che sia stata magari successiva non è stata immediata appena nato l'avete studiata bene però siete usciti fuori con un progetto molto strutturato ben costruito che non a caso ha dato come conseguenza un'enorme affluenza di persone immagino che abbiate riversato la maggior parte dei visitatori del sito ma anche oggi avete un canale fortissimo sì abbiamo deciso appunto di aprirci alla condivisione di video e abbiamo abbiamo deciso essendo essendo in quel momento un business comunque già avviato abbiamo ci siamo allestiti con con i nostri studi le nostre luci la nostra attrezzatura anche a livello riprese ci siamo fidati dei professionisti per per confezionare un prodotto diciamo di qualità questo però non deve spaventare nel senso che non è assolutamente necessario dotarsi di questi strumenti per per avere successo youtube anzi un video fatto con una non dico con un telefonino o comunque con un telefonino di quelli di ultima generazione quindi con una buona qualità video e con un treppiede piccolino comunque ti permette di magari con un bel sfondo ti permette già comunque di fare un video in HD limitando quelli che sono i costi magari con un microfono scaricando qualche semplicissimo programmino per il montaggio video sicuramente consente al professionista che non ha opportunità di investire di partire già con qualcosa ecco in internet questo non deve spaventare si può veramente partire con un senza necessità di finanziamenti ecco con un budget irrisorio o addirittura per il zero assolutamente poi ci siamo in un momento ideale perché la trasformazione del video della televisione veramente i numeri sono cambiati tantissimo sì poi l'importante è chiaramente il contenuto cioè chiunque può fare un video però la differenza tra un video visto e un video non visto è il contenuto del video che può essere di vari tipi perché la gente può essere attratta da diversi tipi di video dipende sempre da chi è il nostro target se vogliamo anche nell'ambito delle scienze motorie ci si può specializzare sulla rieducazione motoria sul fitness per gli anziani o sul fitness estetico sui bodybuilding quindi chiaramente in base al proprio target si cercherà di offrire un contenuto mirato ecco quello che conta poi è individuare la nicchia perché l'internet funziona moltissimo su questo esatto anche voi mi pare avete distinto le proposte nonostante all'interno della stessa piattaforma ci sono il fitness c'è la nutrizione sono proposte molto curate e studiate certo poi ripeto fare un video come lo facciamo noi anche per noi è molto dispendioso perché comunque c'è una preparazione dei testi prima c'è l'allestimento le riprese video il montaggio video i gobbi non dico che siamo in tv però abbiamo allestito un set semiprofessionale però ribadisco questo non è assolutamente necessario non deve assolutamente spaventare perché non ho problemi ad ammettere che ci sono delle persone che senza strumenti riescono a ottenere risultati addirittura superiori ai nostri quindi benvenga insomma chiunque voglia scimentarsi un po' di costanza sicuramente è una cosa importante è che quando si crea una nuova attività in internet inizialmente magari con i social si può saltare qualche step ma inizialmente è abbastanza frustrante anche questo perché inizialmente non si ha seguito però il fatto di continuare pubblicare magari inizialmente anche solo due video a settimana poi nel giro di sei mesi si potranno già iniziare a vedere dei numeri e magari nell'arco dell'anno si potranno avere già non so i mille i duemila follower che poi ti dovrebbero dire perfetto allora da quest'anno due giorni a settimana non lavoro più in palestra ma le dedico questa cosa qui un video che ti fa un milione di visualizzazione ti potrebbe cioè indicativamente ti può portare 1500 2000 2000 euro di pubblicità tramite youtube fare un milione di visualizzazioni non è affatto semplice però per certi non è affatto difficile perché ho dei ragazzini che con dei video veramente banali fanno dei numeri allucinanti ecco youtube tu intendi ti paga soltanto quando tu fai un progetto di affiliazione e ti paga ti monetizza in quel modo lì ma youtube ti paga indipendentemente dalla pubblicità cioè sono loro che ci mettono a bustare perché c'è una cifra che pare che sia il milione di visualizzazioni dove youtube ti premia con un contattivo in denaro o devi per forza avere il banner sul video no dunque youtube devi fare una richiesta di poter monetizzare gli spazi cioè se io apro un nuovo canale oggi carico il video c'è della pubblicità ma io non ho alcun tipo di ritorno per avere un certo ritorno devo fare una richiesta specifica youtube ecco a differenza di quello che è la controparte per la monetizzazione degli spazi pubblicitari di siti web in cui la richiesta si può fare in epoca molto precoce quando il sito ancora giovane fa poche visite per youtube consigliano di avere prima di fare questa richiesta di avere già un discreto numero di video un discreto numero di visualizzazioni perché questa richiesta può essere bocciata quindi sì consiglio è quello di attendere di attendere non lo so qualche mese di avere già dei video interessanti con qualche visualizzazione e chiaramente un altro paletto molto importante è che bisogna possedere tutti i diritti di quello che si carica a partire ad esempio anche dalle musiche di sottofondo ecco se si mette una canzone di qualunque tipo coperta ai diritti poi youtube non ti permetterà di monetizzare quel video perché chiaramente si stanno violando i diritti commerciali di terze parti infatti questo è un altro aspetto sempre molto vasto di cui bisognerebbe parlare approfonditamente spesso ok apro il sito ma il sito equivale ad avere poi una privacy policy uno statement molto circoscritto eventualmente partita IVA registrazione camera di commercio ecco non è banale banale utilizzo delle immagini chiaramente un'immagine qualsiasi immagine il 99% delle immagini sono coperte dai diritti dottori quindi il fatto di scaricare una di scaricare un'immagine effettuare una ricerca tramite google immagini scaricarsi la foto e caricarla sul sul proprio profilo social non è non è un'operazione diciamo non tanto perfettamente legale però è un'operazione un po' a rischio soprattutto diventa ancora più rischio nel momento in cui si dimostra che io da quell'immagine ho ottenuto una certa forma di guadagno perché sto utilizzando un qualcosa fatto da altri a mio beneficio personale oggi esistono perché proprio che il business si evolve ed esistono queste situazioni esistono aziende che si occupano di recupero dei crediti da parte dei artisti dei titolari delle royalties di queste immagini che vanno proprio a ritrovare dove sono state utilizzate certe immagini per poi emettere denuncia laddove è necessario che va pagata anche in maniera molto salata si certo però dall'altra parte esistono anche delle piattaforme che ti danno una serie di contenuti open source oppure a pagamento a modeste cifre servizi come Fotoglia Shutterstock o iStockfoto ti permettono di scaricare una foto a pochi euro e di averne diritti al sfruttamento commerciale sul discorso dei freelance tu hai mai hai lavorato con tante persone internet è un mondo anche dove l'outsourcing è una risorsa molto importante per sviluppare progetti così imponenti hai esperienza utilizzi piattaforme in particolare sì mi è capitato di aver bisogno ad esempio di banali traduzioni e mi sono affidato delle piattaforme online nelle quali in cambio di diciamo dei compensi orari assolutamente accessibili hai la possibilità di accedere a servizi di vario tipo che possono essere la traduzione nelle varie lingue nelle varie lingue ma anche creo il tuo banner a partire da 5 euro creo la tua pagina il tuo sito internet a partire da 50 euro magari uno può comprarsi il dominio e limitarsi ad una vetrina iniziale in cui mette la foto due o tre parole su di sé e poi rimanda ai social questo ad esempio io utilizzo Fiverr che è una piattaforma in cui ci si iscrive e ci si mette in contatto direttamente con professionisti che presentano le proprie attività le proprie competenze sia anche lì un sistema di recensioni basato sui feedback degli altri clienti per cui si può capire se il professionista a cui ci si rivolge è effettivamente in grado di portare a termine il progetto che gli si commissiona e veramente ha dei costi di costi accessibili ecco internet ripeto se si sa cercare risolve qualsiasi problema ci vuole una formazione e una competenza certo permette di accorciare le distanze e di fare cose che erano inimmaginabili fino a pochi anni fa bellissimo assolutamente hai mai pensato di fare anche formazione in merito a tutto quello che sai oggi? finora finora no sinceramente al di là di quello che hai esposto al fitness business summit che è stato di grandissimo valore per tutti i presenti no sinceramente un consiglio questo ad alcune persone magari che hanno provato a contattarmi sembra strano quello che dico però sono molto disponibile a dare consigli per quella che può essere la mia esperienza anche in maniera totalmente disinteressata è chiaro che quando hai da gestire uno staff di 5 persone rapporti con aziende impegni vari specie con un modello azienda in cui l'imprenditore non è tanto imprenditore ma operaio a fine giornata ha tempo per rispondere a quello che ha bisogno della scheda o di altre cose fisicamente fisicamente non c'è però sì diciamo che ma questo questa è una qualità che secondo me è abbastanza tipica dell'essere umano quella di di essere aperto alla condivisione delle esperienze positive che si hanno magari alcuni ci sono alcuni che hanno paura di dire ma no non glielo dico perché se gli dico il lavoro che faccio come ho fatto a fare successo magari anche quello lo fa mi porta il lavoro però oggi più che mai non ci sono più frontiere su internet si trova tutto quindi non vedo perché chiudersi e volentieri se questo può può servire a a dare a qualcuno nuovi nuovi spunti che magari si trova nella situazione in che ero io eri tu all'inizio della propria carriera lavorativa volentierissimo insomma sono sicuro che sono molti a essere interessati a quello che è fatto perché non c'è cosa migliore che imparare dall'esperienza vissuta dai risultati ottenuti per accelerare il percorso non si smette mai di imparare il fatto di il fatto di procedere con i paraocchi sicuramente mi ha impedito di di fare nuove esperienze di imparare tante cose e magari tante cose poi alla fine le ho imparate ma le ho imparate sulla mia pelle quindi facendo degli errori andando a scontrarmi con delle realtà diciamo pesanti perché le difficoltà a fare imprese in Italia dopo che arriva l'idea sono abbastanza però diciamo che il fatto di di avere qualcuno che ci è passato sicuramente ti può dare dei consigli utili o comunque ti può ti può preparare ad affrontarli meglio ad esempio nessuno aveva preparato l'idea che nel passaggio dal regime fiscale agevolato al regime fiscale diciamo ordinario ci sarebbe stato da pagare praticamente più del doppio cioè ci sarebbe stato da pagare i tasse più di quello che avevi guadagnato prima quindi se guadagnavi 100 dovevi pagare 110 in tasse che quando me l'hanno detto ho detto a che serve cosa fate l'anno dopo si recupera sono tutte cose che se uno viene da una realtà abbastanza dinamica con una rete di conoscenze sicuramente è preparato questo se uno è in una realtà invece abbastanza chiusa in cui non ha non ha questo bagaglio di esperienze che viene dato dall'esterno poi si trova si trova i momenti questo me l'ero dimenticato ma può essere può essere definito uno di quei famosi momenti di sconforto che mi avevi chiesto poco fa immagino esatto questo può essere stato uno dei momenti critici però beh non ce ne sono stati tanti ecco fortunatamente sono state molte 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 di più le gioie fa piacere io ti faccio le congratulazioni è il nome mio e immagino anche il nome di milioni di persone che in questi anni hanno potuto imparare migliorarsi trovare informazioni all'interno di questa grande piattaforma di mypersonal training.it e personalmente spero di vederti coinvolto in grandi progetti ugualmente perché tutto questo sapere può continuare ad originare a dare la possibilità a tante persone di migliorarsi compresi i professionisti nell'ambito delle scienze motore che possono guardare il tuo lavoro con orgoglio sicuramente perché vedere un professionista che viene dalle scienze motorie avere un così grande impatto a livello nazionale come dicevamo prima sopra i quotidiani c'è grandissimi numeri 21 milioni di divisi in un sito sono veramente qualcosa di impressionante e spesso mi chiedono se la mia laurea è servita ti è servita la tua laurea sì alla fine alla fine comunque mi è servita certo non mi è servita a fare quello quello che pensavo e quello in cui uno con un ragazzo magari 18 anni si iscrive all'università e dice ok faccio scienze motorie perché voglio andare a fare il professore alle scuole alle scuole medie come poteva essere vent'anni fa questo questo oggi è molto difficile però chiaramente avere una una laurea e se possibile se si hanno la possibilità continuare poi a investire nella formazione futura sicuramente ti permette di arrivare dove non avresti mai pensato infatti il valore è duplice perché diciamo oltre a quello che hai fatto hai anche aperto un nuovo canale sei stato pioniere in questo cioè che oggi chi decide di entrare nel mondo della divulgazione scientifica ha già un tracciato da chi è stato percorso che come hai detto prima giustamente non è ripercorribile nello stesso modo perché chi si mette oggi a strutturare non lo può fare con le dinamiche di My Personal Trainer ma ha un esempio ha un tracciato c'è qualcuno che l'ha già fatto con successo quindi è fattibile e io ritengo e sono anni ormai che lo dico che uno dei ruoli di laureate scienze motorie facente parte del percorso di laurea è proprio questo perché stimolare le persone a muoversi consapevolmente ad accedere al sapere dei professionisti ecco questo è una grande operazione grandissimo assolutamente quindi ti faccio ancora le congratulazioni ti ringrazio di essere stato qua con noi e spero ci siano anche altri momenti per poter condividere grazie ciao ciao grazie a tutti 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 grazie a tutti